Sono sorpreso positivamente dal voto, il centrodestra vince e convince, nel senso che ha raccolto davvero delle risultati importanti in tutti i comuni, di fatto è stato forse un trionfo. Anche perché il PD di solito quando anche andava in difficoltà magari nella dinamica del voto politico sui territori, quei ballottaggi, teneva. Questa volta devo dire che è stato complessivamente invece confermato il buon governo del centrodestra. Penso alla Toscana dove nonostante alcune divisioni interne alla fine il centrodestra torna a vincere a Siena, Massa, Pisa. Non era affatto scontato, tutti guardano Ancona e sicuramente quello è stato un test importante ma davvero l'onda del centrodestra è arrivata dappertutto e io come Forza Italia continuo a ripeterlo. Il centrodestra è forte perché è unito, anche nelle differenze alla fine troviamo la sintesi. Spesso anche noi ci troviamo persone che dicono ti ho votato e magari riconducono il voto non al partito o non subito al partito ma ancora prima alla coalizione che in qualche modo ormai qualcuno di noi rappresenta. Questo è un grande valore che dobbiamo preservare. Come si preserva? Rimboccando le maniche a lavorare da domani in tutte le amministrazioni comunali d'Inte.